Il Global Compact stabilisce che l'immigrazione è un diritto fondamentale dell'essere umano, qualunque tipo di immigrazione, non solo chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla violenza, chi scappa dalla tortura, ma anche chi scappa dalla fame, chi scappa dalla povertà, chi scappa dal caldo, chi scappa semplicemente chi si muove perché gli va. La bandiera olandese a fare il trasbordo di immigrati grandestini a casa mia, oppure l'Olanda mi dice che non riconosce la Sea-Watch, il che significa che la Sea-Watch è una nave pirata e quindi queste passioni si fanno sbarcare, l'equipaggio si arresta e la nave si affonda. Il più grande genio della storia dell'umanità era italiano, era nato a Vinci, precisamente ad Anchino, e allora non ne possiamo più di questa gente che nega anche l'evidenza del genio italiano, della grandezza italiano, di uno che semmai come tanti italiani era andato a portare il suo genio fuori dai confini nazionali, ma italiano rimaneva.